Il canale è il 17 e ci ritroviamo come tutte le mattine a sfogliare i giornali, il Carlino, il Corriere Adriatico per vedere quelle che sono le notizie più importanti del giorno, anche se già sappiamo tranquillamente di che cosa parleremo anche in questa rassegna stampa del mattino. Sono le 7.42 per chi ci segue in diretta, ricordiamo che questa è una collocazione straordinaria della rassegna perché comunque alle 7 diamo spazio alla messa in diretta da Santa Marta dove c'è il Papa che celebra tutte le mattine, anche questa settimana il centro televisivo News Vatican Media ci ha dato la possibilità alle televisioni collegate di trasmettere il segnale e quindi lo facciamo. Poi ci sono altri appuntamenti importanti che vi ricorderò nel corso della mattinata, ovvero a mezzogiorno abbiamo inserito oggi un nuovo appuntamento, l'Angelus e poi la Preghiera del Rosario, alle 3 rimane confermata purtroppo le repliche della cappellina con la coroncina Divina Misericordia e poi il Santo Rosario e di nuovo la Santa Messa in diretta da San Giovanni Rotondo alle 18 e poi un altro appuntamento ancora, dopo il telegiornale in diretta da Loreto, da questa sera avremo il Rosario con l'Arcivescovo Dalcino. Quindi alcuni momenti vanno bene i flash mob, vanno bene le cantate, le suonate sui terrazzi, va bene tutto, ma credo che sia importante adesso concentrarci anche sulla preghiera, è fondamentale. Dobbiamo tirare e guardare al cielo e chiedere aiuto perché altrimenti da soli siamo un po' limitati, allora è arrivato il momento di mettercela tutta. E adesso, con fiducia e speranza, andiamo a vedere il tempo, anche se poi ci serva poco perché stando dentro casa se piove o c'è il sole fa poca differenza. Allora, andiamo a vedere il tempo, comunque no, il Santo del giorno prima, facciamo il Santo, San Cirillo di Gerusalemme, è stato vescovo, il sole è sorto alle 6 e un quarto, tramantarà alle 18 e 19, dicevo il tempo, sarà oggi cielo con cielo sereno o poco nuvoloso, così come per domani, domani c'è ancora più sole lungo la fascia costiera, avremo le temperature ancora in lieve aumento, venerdì 20 ancora cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature senza variazione di rilievo, possibile copertura tra la giornata di sabato e domenica, ma con rischio basso di precipitazione. Ma insomma, poi molti sindaci, abbiamo visto anche come a Colli del Metauro, in provincia di Peso Urbino, stanno chiudendo anche i parchi cittadini proprio per scoraggiare le persone a fare passeggiate lunghe, abbiamo visto, se ne stanno dicendo di ogni sulla questione posso uscire per fare due passi, posso andare a fare attività sportiva, tutte queste cose qua che chiaramente si possono, ma anche qui bisogna stare attenti perché poi dopo uno la prende, ecco, sotto casa, un attimo sotto casa si può andare, il cane, sotto casa, più là no, quindi ecco, per essere ancora più precisi e senza evitare che poi qualcuno se ne approfitti. Allora, andiamo a vedere i giornali, faccio i tamponi a tutti, è un virgolettato, chi lo ha detto? Lo ha detto Luca Ceriscioli, il presidente della regione Marche, che inizia così una sua, tra virgolette, una sua crociata e lui è convinto, il presidente è convinto perché dice solo così risolveremo il problema degli asintomatici e poi annuncia, comincio da Ascoli, voi sapete Ascoli è la provincia di tutta la regione Marche che ha un bassissimo numero di casi, a differenza invece al contrario di Peseo Rubino che invece ne ha tanti. Il bollettino di ieri purtroppo è lugubre, 22 morti, il totale sale così a 91 in tutta la regione. La buona notizia è che in 24 lasciano l'ospedale, dunque in 24 persone sono praticamente, possiamo dire, guarite e hanno lasciato l'ospedale. Poi ci sono i sindaci, qui c'è una carrellata di fotografie da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro alla Mancinelli di Ancona, per dire che cosa? Che mancano le risorse. I sindaci parlano di questo decreto che tra l'altro è stato firmato in nottata, è già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dicono che da questo decreto purtroppo non ci sono molte risorse e quindi questo complicherà notevolmente le cose una volta che sarà passato tutto questo pandemonio. Allora, il resto del Carlino invece l'edizione di Pesaro apre anche qui con la notizia dei tamponi a tappeto, però non da noi, cioè in tutte le province ma non in quella di Pesaro e Urbino. Andremo a vedere poi il perché. L'iniziativa è per gli asintomatici, esclude il nord delle Marche perché dice impossibile per la velocità del contagio. 100 pagine invece c'è la fotografia di Bruno, Bruno Gambini, che compirà 105 anni il prossimo luglio e lui dal suo letto della casa di riposo dice non preoccupatevi, andrà tutto bene e quindi ci ritroveremo a luglio per festeggiare insieme i miei 105 anni. Allora, entriamo nelle pagine interne. Due container e una tenda per sanificare gli operatori, una terza tenso struttura che è stata montata al San Salvatore di Pesaro, il percorso pulito del personale. I sindacati esigono la comunicazione agli addetti dell'esito dei tamponi in ritardo perché c'è anche un problema di tamponi che sono stati fatti ma i cui risultati ancora non sono stati resi note. Il direttore Patriti dice i sanitari positivi da tempo però sono a casa. A Villa Fastigi invece 80 posti letto per i pazienti convalescenti. Da domani la struttura sarà attiva ma resta il nodo del personale. Dunque domani aprirà una porzione del complesso edilizio sanitario privato di Villa Fastigi per accogliere i pazienti affetti da Covid-19 che dovranno continuare dunque la terapia dopo aver superato la fase acuta. Posti letto garantiti anche all'interno della RSA di Galantara. L'annuncio del governatore Ceriscioli ieri mattina apre alle strutture private che sono convenzionate presenti anche sul territorio del Pesarese per rispondere ai numeri dell'emergenza. E poi dalla pagina 18 invece del Corriere Adriatico la tasse di soggiorno un buco da un milione. Il paso della Confcommercio è pessimista sulla sospensione delle imposte comunali. Faremo pressing su marche multiservizi per le bollette dell'acqua e anche quelle dei rifiuti. Ancora dal Corriere Adriatico il cinema in tilt ma è il momento di dare la svolta. Il regista Eris Chiaroli, il regista Fanese, rimarca all'emergenza e dice lavoriamo a una proposta di legge per il rilancio. Centinaia di imprese ora rischiano il colpo di grazia. Covid-19 invece era assicura tutti i dipendenti. Emergenza era a sostegno dei suoi dipendenti. Il colosso Emiliano Romagnolo, socio di maggioranza relativa di marche multiservizi, si è previsto a favore di tutti i dipendenti, facendosi carico del relativo costo, una copertura assicurativa contro il Covid-19. Dalla Spagna a Durbino per sfuggire al contagio il racconto di tre giovani ducali, studenti a Murcia, hanno viaggiato in auto per 1800 chilometri. In Francia ridevano di noi quando ci vedevano con le mascherine e i guanti. Fedrielli dice un solo controllo in 26 ore, poi no stop di strada. Nella penisola iberica ci dicevano di stare in gruppi addirittura. Sanificazione gratuita invece per le volanti e le gazzelle, parliamo delle volanti della polizia, le gazzelle di Carabinieri. La DG Vapor ogni mattina igienizza tutti i mezzi delle forze dell'ordine. Di Guido, Pesaro ci ha dato tanto e volevamo contraccambiare. Poi il caso delle tantissime persone che vanno alle poste, abbiamo visto anche ieri la fotografia che circolava sui social di una fila molto lunga che c'era su tutta la piazza del popolo. La Cisla, adesso il sindacato, scrive al prefetto la polla per ribadire come le norme introdotte a salvaguardia della tutela della cittadinanza. Chiedono a ciascuno di noi sacrifici sicuramente sopportabili e la modifica di qualche abitudine allo scopo di fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus. Quindi se non è necessario, lo ricordiamo, è inutile andare alla posta. Poi ci sono molte possibilità, adesso anche con l'onbank, che magari l'internet non è per tutti, soprattutto per le persone anziane, ma comunque insomma c'è anche questa possibilità. Priorità all'ambiente, meno auto in centro, c'è il primo passo, arriva una pista ciclabile, a Fabriano collegherà il terminal dei bus alla cittadella degli studi. Vabbè, questa è una pagina che c'è sfuggita, è entrata in rassegna stampa ed è rimasta lì. Comunque, vabbè. Imprenditore invece in crisi cerca liquidità e chiede un prestito a Senigallia, ma è stato truffato sul web. Era convinto a pagare, è stato convinto a pagare mille euro per avviare la pratica di un mutuo, però era un blef ed è stato preso il truffatore che è un campano. Dopo la denuncia la polizia ha individuato il responsabile. Ancora dai quotidiani, dal Corriere Adriatico, un ambientalista, Alberto Milazzo, figura storica dell'ambientalismo Pesarese che è morto, anche lui, a causa del coronavirus. Addio Milazzo, padre dei Verdi, il sindaco gli rende onore, ha migliorato la nostra comunità incidendo sui temi progressisti, ambientalista da sempre, uomo impegnato per la pace, una persona di grandissima umanità e anima dei Verdi. Sono alcune parole con cui gli amici e conoscenti raccontano Alberto Milazzo, pesarese 79enne, deceduto la scorsa notte nella sua abitazione in zona mare. Soffriva di patologie pregresse ed era febbricitante da alcuni giorni. Non aveva fatto il tampone per il coronavirus. Quindi, ecco, io ho detto una inesattezza su questo senso e quindi mi scuso con la famiglia. Io non ho letto che non aveva fatto il tampone, ma velocemente invece con gli occhi, anche perché le notizie sono quasi tutte uguali, purtroppo pensavo che fosse così. Quindi mi scuso e poi magari aggiorneremo questo dato se arriverà l'esito del tampone. Però, ripeto, in questo momento Milazzo non aveva fatto il tampone per il coronavirus, aveva patologie pregresse, scrive il giornale ed era febbricitante. Poi il resto dobbiamo attenerci a quello che sarà il risponso. Montecchio non smette di piangere. Morto l'imprenditore Italo Vagnini, il fondatore della Mobil Più, si è spento al San Salvatore. Era stato ricoverato tra i primi della provincia il 28 di febbraio. Era uno degli storici veri immobilieri di Montecchio, forse l'ultimo, scrive sempre il Corriere Adriatico. Fondatore nel 1966 della Mobil Più Luxury, oggi guidata dal figlio Giacomo, si è fermato ieri sulla soglia degli 80 anni che avrebbe compiuto il prossimo novembre. Se lo ha portato via una polmonite causata dal coronavirus che lo aveva colpito tra i primi nella zona lo scorso 28 febbraio, costringendolo al ricovero all'ospedale San Salvatore. Intanto, ed ecco la foto di Italo Vagnini, volto conosciuto, il figlio dice non ti potremo neppure vestire e salutare. Via la marca, stop al cantiere, decisione obbligata, chiusi tutti i fornitori della ditta vincitrice dell'appalto, niente da fare, la riqualificazione del ponte continua a subire in toppi, all'inizio i lavori slittati per colpa delle grane giudiziarie, adesso invece per tutta questa situazione che chiaramente sta bloccando anche questo tipo di lavori. State a casa, andrà tutto bene, dice Bruno Gambini, nella casa albergo per anziani mentre legge il Carlino. Sopra il disegno dell'arcobaleno è un invito, vi aspetto il 7 luglio per i miei 105 anni, faremo un festa tutti insieme, una carica di ottimismo dalla casa per anziani Famiglia Nova che conta tre vittime. Ho avuto la febbre, dice, ma si sta, ha avuto la febbre, dicono, ma si sta riprendendo, io sono la prova vivente che tutto è possibile. E anche nonna Iris, ieri ha spento le sue 100 candeline, lo ha fatto idealmente nel suo letto di ospedale nel quale si trova dal 12 marzo, da quando è stata colpita dal coronavirus. Iris Gulini, ieri ha compiuto 100 anni, circondata dall'affetto dei medici e degli infermieri che le hanno fatto gli auguri e che le sono vicino anche a nome di tutti i familiari che chiaramente invece non possono starle accanto. Tonina, una voce dal Santa Colomba, ho visto la guerra, il virus, non mi fa paura, classe 1935, l'ex commerciante racconta la sua vita nella casa di riposo in cui sono morte otto persone. Tonina Sassi, è stata la prima ad aprire una bottega di alimentari nella parrocchia di San Carlo assieme al marito Egisto, che ora non c'è più, da qualche tempo è ospite a Santa Colomba, uno dei luoghi più a rischio per l'emergenza coronavirus, ma lei mantiene la tempra di donna forte e insomma dice abbiamo visto la guerra, questo virus non mi fa paura. E questa quarantena è un'opportunità, qui parliamo di fede, che in questi casi è fondamentale anche per la tenuta psicologica, perché poi spesso uno sta anche bene, non ha problemi con il virus, grazie a Dio, ma cede magari dal punto di vista psicologico. La fede aiuta, la fede è inutile dirlo, aiuta e quindi è un dono anche per chi ce l'ha. Padre François D'Armin, che lo conosciamo, l'abbiamo trasmesso anche qualche anno fa, è un esorcista domenicano, docente di teologia morale, che interviene in questo articolo che porta le film di Mikol Saramisiti e che a un certo punto dice che tipo di guerra stiamo combattendo, questa è la domanda della collega. E la risposta è credo che non sia una guerra contro qualcuno, ma che sia contro se stessi. Il momento che stiamo vivendo non è casuale, dice questo monaco, è provvidenziale, rientra in un disegno di Dio. Non sto chiedendo, non sto dicendo che Dio ha provocato quello che sta succedendo, ma se Lui lo ha permesso è per un bene maggiore e ancora chiaramente dovremmo scoprirlo, qual è questo bene maggiore, forse lo vedremo tra qualche tempo. Questo periodo ci obbliga a confrontarci con i nostri limiti, il rischio della morte, con i nostri deliri di onnipotenza che vengono ridimensionati. Capiamo che non siamo eterni, ci fa riflettere sulla direzione verso la quale fino a poco tempo fa stavamo orientando la nostra vita. E dunque dove stavamo andando? Tutto ciò è positivo perché ci obbliga a metterci in discussione e a renderci conto che la vita è un dono che ci viene allargito da Dio, che ci chiede di sfruttarlo per cambiare noi stessi e per fare il bene intorno a noi. Mi dispiace molto, conclude ancora padre Darmin, mi dispiace molto per le morti causate dal virus, ma questo è anche tempo di opportunità, di un'opportunità. Ci ricorda che la vita, come abbiamo detto, è un dono, Dio ce l'ha affidata e possiamo da oggi riflettere e lavorare per costruire un futuro migliore. Andiamo adesso invece sull'altra pagina della nostra rassegna stampa, sul resto del Carlino, una sorta di un titolo che speriamo possa replicarsi da oggi in poi tutti i giorni, cioè il virus che rallenta. Sono stati dimessi i primi 24 pazienti, però la scia di morte non si ferma. Ieri altre 14 vittime nelle Marche, di cui 10 dalla provincia di Pesero Urbino, a cui si aggiungono anche gli 8 decessi dei giorni precedenti, per i quali però è stata confermata la diagnosi soltanto ieri. In totale a Pesero salgono a 74 i decessi. E poi c'è la richiesta di un uomo di 47 anni, pesarese, che dice ho febbre, sintomi da febbraio, ancora però non so l'esito del test. È un 47enne che ha deciso di raccontare la sua situazione nella speranza che qualcosa si muova. Gli hanno fatto il test, ma ancora lui non sa esattamente se è positivo oppure no. La pagina di Fano del resto del Carlino, di vieti beffati, calano i lombardi e vanno al mare, si riempiono le seconde case, anche a Fano, degli Umbri, alcuni fanno addirittura le grigliate, proprio come in estate, e altri passeggiano in spiaggia. Le foto parlano chiaro, guardate, queste sono persone che prendono la tintarella, la luce del sole, di qua invece a sinistra gli appartamenti estivi aperti e persino le bottiglie per il brindisi lasciate in giro dopo le grigliate. Insomma, chi ha qui le attività teme che così si possano allungare i tempi dell'emergenza? Uno. Due, è una questione di rispetto. Ne parlavo ieri con una delle tante persone che continuano a chiamare ogni giorno, siete in tanti a chiederci, a telefonare, a mandare messaggi e una persona proprio diceva, io ho un'attività, ho un'attività e quando vedo la gente che se ne frega di tutto e di tutti e continua a fare come se nulla fosse, ecco, mi viene rabbia, mi viene rabbia perché io sono a casa, ho un'attività, ce l'ho chiusa, quindi probabilmente avrò problemi anche economici come la maggior parte di noi le avrà da qui in poi e quando vedo questa gente menefreghista che gira per le strade come se niente fosse, mi viene rabbia perché è una mancanza anche di rispetto, oltre che per la salute e tutto il resto. E questa è una delle tante cose che si sentono dire in questi giorni. A proposito di controlli, faciloni, fintitonti, ignoranti, come li vogliamo chiamare? Non lo so. Il dramma però non li sfiora, numerose chiamate alla polizia per assembramenti. Anche la guardia di finanza setaccia la città e la polfer è entrata in azione sui treni. I bambini, le famiglie non resistono al richiamo del sole, si sfidano anche il rischio di contagio per coronavirus in giorni drammatici per la città. Anche ieri la polizia locale è stata chiamata ripetutamente dai cittadini preoccupati per assembramenti di persone che in barba al decreto continuano a radunarsi, a fare, fanno giocare i propri figli nei parchi pubblici, nelle aree verdi della città. È accaduto un po' dappertutto. Per due volte gli agenti sono stati chiamati per esempio in via Luca della Robbia, dietro l'ex carcere minorile di Pesero, dove era in corso addirittura una partita di calcio. Al parco Miralfiore i genitori hanno portato a giocare i loro figli nell'area attrezzata, mentre al parco Trulla, in via Mancini e nei giardini di via Grazioli, nella zona di Pantano, altri ragazzi giocavano a calci, i bambini andavano in altalena, come se nulla fosse. Insomma, le forze dell'ordine chiaramente fanno quello che possono, però hanno fatto anche moltissimi controlli, moltissime sono anche le persone denunciate, 109 sono quelle denunciate, quasi 5.600 il numero complessivo dei controlli e insomma, anche negli esercizi commerciali, perché qualche defezione c'è anche negli esercizi commerciali, due denunce titolari degli esercizi e due sanzioni amministrative. Poi c'è tutto il resoconto sui giornali di questa mattina, tornando sul Carlino di Pesaro, sui numeri di questa emergenza, 100 letti in più, c'è anche Villa Fastigi, da domani saranno finalmente messi a disposizione 80 posti nella RSA che è stata inaugurata l'anno scorso. Altri 20 pazienti a Galantara già giovedì potranno essere accolti positivi al Covid-19 in fase di remissione. E poi l'allarme virus che non ha frenato e non frena i furti, denunciata la badante, la 66enne aveva svaliggiato la casa dell'anziana che assisteva ed era pronta a portare il bottino in Ucraina. Mentre sulle mascherine c'è un articolo interessante che potrete leggere questa mattina sul resto del Carlino di Solidea Vitali Rosati. Attenzione perché le mascherine fai da te possono essere dannose, ne parla il professor Pietro Sestili che è professore di farmacologia all'Università di Urbino, il quale mette in guardia e dice l'uso improprio provoca ricettacoli di microbi e falsa la percezione di sicurezza. Molto meglio mantenere le distanze che ricordiamo un metro, un metro e mezzo, insomma il più possibile. La mascherina è importante ma quando viene usata in modo improprio può causare più danni, produrre più danni che benefici. Per esempio dice infezioni polmonari che non hanno nulla a che vedere con il coronavirus. Si tratta di una barriera che mettiamo davanti alle vie respiratorie dunque deve essere pulita, non deve diventare un ricettacolo di microbi per l'uso prolungato. Anche quelle specifiche che sono quelle anticontagio, le famose FP3 o FP2 vanno indossate per un numero di ore limitate. Poi se è troppo umide per esempio perdono la loro efficacia eccetera eccetera. E tutta l'intervista la troverete sul giornale di questa mattina. Mentre sotto a Monbaroccio il farmacista e la Sarta si costruiscono le protezioni. L'idea di Marco Mazza e di Rosilde Vitali, quelle che girano in internet dicono hanno prezzi altissimi, esagerati e non sono meglio delle nostre. Ma a quanto pare insomma sono delle mascherine che vanno bene nel senso idonee, che non si trovano in commercio perché tra l'altro le FFP sono scarse. Molti anche qua ci chiamano per dire dove trovo le mascherine ce le devono dare, siamo anziani, dobbiamo fare. Insomma chiaramente in questo momento le mascherine non si trovano. Addio ad Alberto Milazzo invece, questo è il titolo sempre sul Carlino, una vita di battaglie. Alberto Milazzo si è spento ieri mattina all'alba, aveva 79 anni, alfiere delle cause che riteneva giuste, la moglie era molto debilitato. Luigi Panzieri dice alla città ora è più povero. E si è andato ieri mattina all'alba, nel sonno, quietamente. Bandiera cittadina delle cause che riteneva giuste, nelle quali ricorda con un fondo di serena tenerezza la moglie Teresa Federici si buttava corpo morto con tutto se stesso. Nell'ultima settimana accusava disturbi polmonari ma non sembravano preoccupanti. Il fatto è che continuò la moglie che ormai era debilitato. E Montecchio invece piange Tina Fabri, ricoverato l'assessore Gattoni. Montecchio sconvolta dalla notizia della scamparsi di Clementina Fabri in Bertulli, prima vittima del Covid nella città. La donna è venuta a mancare l'altro ieri all'età di 76 anni, era per tutti nota come Tina, bella e sempre sorridente, conosciuta soprattutto per l'attività di famiglia, della famiglia Befa, forniture industriali. E poi ancora da questo bollettino, come dicevo anche ieri, terribile, anche la notizia della morte di Italo Vagnini che aveva 79 anni. Il figlio Massimiliano dice che non aveva patologie, è sempre stato bene, un leone, pensavamo che ce la potesse fare, ma ha perso la battaglia contro il coronavirus. Lutto nel mondo dell'imprenditoria si è spento uno dei pionieri dell'industria del mobile, aveva fondato la Mobil Più di Montecchio. Anche nella pagina 7 del resto del Carlino, psicologo stroncato dal virus a solo 58 anni, Carlo Di Loreto è una delle più giovani vittime accertate finora, padre di quattro figli, sosteneva la comunità di Don Gaudiano. Questa è l'ennesima grave perdita per la città di Pesaro dall'inizio di questa emergenza. E poi, sempre dal Carlino, non si cancellino i rintocchi dell'orologio. I comitati di Sasso Corvaro, che difende la Torre Campanaria, chiede di non dare ascolto alle lamentere del dottor Nardella, il quale aveva chiesto di interrompere il rintocco ogni 15 minuti. Dunque, quell'orologio a Sasso Corvaro per alcuni cittadini, insomma, non deve essere toccato, non deve essere spento. File di tre ore alle poste, c'è un solo operatore, la coda arriva oltre a metà piazza e dura un'infinità. Organizzazione assurda, caos raccomandate, a casa non ce l'hanno lasciata. Sotto il mercato dell'alimentare c'è, ma qui non viene quasi nessuno. Le bancherelle a San Decenso di Pesaro, dopo le polemiche del Comune, le cose non vanno affatto bene. Rinunciamo a sanificare le nostre strade, invece sono sei sindaci della Valle del Cesano che annunciano che non effettueranno la sanificazione delle strade e spiegano anche il perché di questa decisione con una nota congiunta. Allora, si tratta di Simona Guidarelli di Pergola, Davide Dellonti di San Lorenzo in campo, Alessandro Valtroni di Fratterosa, Mirko Zenobi di Mondavio, Giovanni Breccia di Monteporzio e Filippo Sorcinelli di San Costanzo. Tutti questi sindaci hanno detto di no, che non serve perché gli esperti confermano che non ha alcuna utilità contro il coronavirus e dunque rinunciano a sanificare le strade. scientificamente sopportato, che oltre ad essere confermato da alcuni esperti del settore, virologi, biologi, eccetera, eccetera, fare la sanificazione degli asfalti potrebbe far stare più tranquilli alcuni cittadini al punto di vista psicologico, ma non produrrebbe risultati concreti per quanto riguarda la limitazione dei contagi. Poi invece anche Aguzzi, a Colle del Metauro chiude i cimiteri. Alle forze dell'ordine chiedo di far rispettare le norme vigenti. Quindi cimiteri a Colle del Metauro, parchi e giardini comunali saranno chiusi fino al 25 di marzo. Ha stabilito ieri un'ordinanza con effetto immediato del sindaco di Colle del Metauro Stefano Guzzi che nello stesso atto ha già previsto anche la possibilità di prolungare la prescrizione. Sanitari contagiati, la diagnosi in ritardo, la stangata sul Santa Croce di Fano con 15 medici operatori positivi. Patriti dice ma non era nel reparto ormai da diversi giorni, quindi cerca in qualche modo di rassicurare. Intanto sta bene il dottor Marco Guidi, primario di neurologia dell'ospedale Marche Nord, che è in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus insieme a cinque membri del suo staff a una settimana dall'esame del tampone. Accusa qualche linea di febbre, sta affrontando la malattia a casa per ora senza seguire particolari terapie. Così come sono in buone condizioni i membri dell'equipe di chirurgia, tre medici e sette tra infermieri e os, ugualmente colpiti dal virus cinese. Sulla pagina 2 invece del resto del Carlino, tamponi a chi non ha sintomi esclusa la nostra provincia, l'iniziativa di Ceriscioli per Ascoli è fermo, al nord invece Pesaro Urbino dunque è impossibile. Per il Governatore la velocità del contagio nelle nostre zone impedirebbe la capacità di elaborare mole di dati in tempo utile. Tra l'altro in questo momento Marche Nord riesce a processare quotidianamente circa 350 tamponi. Il Presidente invece ha detto che attuerà il provvedimento nelle province di Ascoli di Fermo dove i casi sono pochi e dunque arrestare la velocità di contagio può avere successo. Inoltre c'è un elemento non da poco nelle due province citate, cioè Ascoli e Fermo, ci sono due macchine acquistate dall'Asur qualche anno fa che una volta abilitate ad hoc permettono di processare 880 tamponi. 800 nella macchina di Ascoli, 80 invece in quella che si trova a Fermo. Ed ecco perché insomma dalla settimana prossima si faranno questi tamponi a tutti anche agli asintomatici. Oltre 500 ricoverati ma arrivano 38 ventilatori salgono a 110 i posti di terapia intensiva nelle Marche. A Urbino gare di chimica 2020, Urbino può farcela, c'è ancora molto tempo per la sfida nazionale che quest'anno sarà organizzata dall'ITIS. L'Istituto lavora assiduamente al programma mentre sotto sul coronavirus la linea di Sgarbi adesso che è prosindaco, lo ricordiamo di Urbino, nei suoi video che fa quelli su Facebook la linea è diversa rispetto a quella che aveva adottato fino adesso. Sgarbi infatti fa retromarcia, dice ho interpretato male un medico e rivede dunque la sua posizione che aveva creato molto scalpore. Dice ammetto la mia colpa, devo dunque scusarmi per aver interpretato male le dichiarazioni di almeno uno di loro, poi cita il nome di un infettivologo primario a San Martino di Genova e quindi riconosco di aver commesso un errore interpretativo sulle posizioni di questo medico. All'inizio per chi non l'avesse visto per Sgarbi insomma tutto questo allarme, lui stesso diceva vado io nella zona rossa vi faccio vedere che il virus non c'è eccetera eccetera adesso invece torna sui suoi passi dice state a casa tutti quanti avevo detto una stupidaggine basandomi e fidandomi di un altro di alcuni medici. Era l'incubo delle squille invece a Senigallia arrestato va in carcere il rapinatore seriale, al 27enne sono stati contestati due episodi accusato anche di spaccio, le condanne sono diventate adesso definitive e poi i parchi sotto assedio si divertono i teppisti, danni anche ai giochi dei giardini di via degli abeti sempre a Senigallia, il sindaco dice quanti danni a causa di questi atti vandalici. La pagina di Fano invece del Corriere, per rilanciare l'ex zuccherificio occorrono gli aiuti dello Stato, l'Unione Costruzioni CNA chiede un concorso di forze per l'area risorsa e poi il Festival del Brodetto, il Festival del Brodetto già rinviato a settembre, era stato programmato a cavallo del primo di maggio e invece come abbiamo visto insomma è stato rinviato. Anche l'esercito a Fano scende in campo per controllare la stazione ferroviaria e la correttezza dei movimenti dei viaggiatori. Sotto la Polizia Locale aumenta i presidi e i controlli, l'assessore Cucchiarini invita a rispettare i limiti agli spostamenti. La Polizia Locale dunque potenzia i controlli sul rispetto delle limitazioni agli spostamenti disposti dal Governo al fine di disincentivare in questi giorni di emergenza la fruizione di molti luoghi pubblici. Ne è stato temporaneamente dibito e limitato l'accesso a cimiteri, aree sportive, alcuni parchi perché nonostante ripetuti appelli al buonsenso e alla collaborazione diversi cittadini stanno continuando a malinterpretare le indicazioni e dunque a non contribuire come invece potrebbero e dovrebbero. La sanificazione delle strade, anche il Corriere scrive, inutile per contenere i contagi. Sei sindaci motivano il mancato intervento, ragioni scientifiche alla base della scelta. Uniti i comuni di Pergola, San Lorenzo, Mondavio, Monteporzio, Fratterose e San Costanzo. Questi sono i comuni dove non ci sarà la sanificazione delle strade, la pulizia delle strade. Chiusi i cimiteri e anche i parchi cittadini, provvedimenti a Fano e a Colli al Metauro, vietato il Camposanto a Mondolfo. E questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa. Sono le 8 un quarto per chi ci segue in diretta. Un saluto naturalmente anche a coloro che ci guardano in replica, un demand su Facebook, su tutte le piattaforme disponibili. Allora vi ricordo, come ho già detto, che a mezzogiorno avremo l'Angelus, poi il Rosario e sono stati aumentati i momenti di preghiera all'interno del palinsesto di Fano TV. Questi sono tutti appuntamenti in diretta. Poi ne avremo un altro al 18, una Santa Messa da San Giovanni Rotondo e poi vi annuncio questa sera naturalmente il telegiornale alle 20 e 30 e poi alle 21, d'accordo con la Basilica con la Santa Casa di Loreto. Ci sarà il Rosario in diretta che vi invito a pregare tutti quanti insieme, anche in famiglia, questa sera alle 21, da questa sera in poi, insieme all'Arcivescovo Fabio Dalcini, l'Arcivescovo della Santa Casa di Loreto. Quindi per noi marchigiani è un appuntamento davvero da non perdere, importante. E allora andiamo avanti, forza e coraggio, ci vediamo stasera alle 20 e 30. Arrivederci.